Benvenuti nel nostro canale di S.Tares. Oggi abbiamo riservato per voi una sfida entusiasmante che potrà travolgere le performance delle vostre auto. Proprio in questo video ci sarà un confronto diretto tra due dei marchi di pneumatici più popolari sul mercato, Michelin e Bridgestone. Da un lato del ring, abbiamo Michelin Primacy 4, noto per i suoi eccellenti tempi da record in frenata sul bagnato, e la sua resa chilometrica eccezionale. Dall'altro lato, abbiamo uno sfidante capace di offrire comfort e controllo straordinari, assieme a ottime prestazioni sportive. Stiamo parlando delle gomme Bridgestone to Anza T005. Ma prima di tuffarci nel confronto tra questi due colossi del mercato mondiale, vorremmo ricordarvi di premere il pulsante di iscrizione e attivare la campanella delle notifiche. Così facendo, non solo supporterete il nostro canale, ma vi assicurerete anche di non perdere nessuno dei nostri contenuti futuri dedicati a fornire un'analisi approfondita su tutto il mondo dell'automotive. Cominciamo con il Michelin Primacy 4, un pneumatico che porta la tecnologia all'avanguardia nel cuore della sua costruzione. Questa gomma rappresenta al meglio l'idea di Michelin per la sicurezza, l'efficienza ma soprattutto la longevità del pneumatico. La tecnologia principale dietro un Primacy 4 è l'innovativa mescola di gomma Evergrip, che offre un'eccezionale resistenza all'usura, assicurando prestazioni durature nel tempo. Questa mescola di gomma avanzata mantiene una trazione ottimale, anche quando il pneumatico inizia a consumarsi. Le gomme Michelin Primacy 4 sono particolarmente adatte per auto come la Volkswagen Golf e la Mercedes E-Class. Perché? Prendiamo ad esempio la Golf. Quest'auto è nota per il suo assetto MQB, che offre un equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni sportive. I pneumatici Primacy 4, con la loro carcassa ultraleggera, si integrano perfettamente con questo tipo di assetto, migliorando ulteriormente la guida e la maneggevolezza dell'auto. Per quanto riguarda la Mercedes E-Class, il suo sofisticato assetto agility info, assicura un'elevata trazione posteriore e comfort di marcia, che è ulteriormente migliorato dal Michelin Primacy 4. Questo pneumatico, con il suo basso livello di rumorosità e la sua alta durata, è un complemento ideale per il lusso e il comfort che la E-Class offre. Adesso, passiamo all'incredibile Bridgestone Turanza T005. Questo pneumatico sfoggia l'innovazione e la meticolosità che sono parte del marchio di fabbrica. L'ingrediente chiave del Turanza T005 è la sua mescola di gomma ricca di silice, un risultato diretto della tecnologia all'avanguardia di Bridgestone. Questa mescola offre un grip eccezionale in curva, e una resistenza all'usura che ne prolunga la durata. Inoltre, il design del Battistrada Nano Protect, un'altra brillante innovazione di Bridgestone, ottimizza la distribuzione della pressione per ridurre l'usura irregolare, migliorando così la durata del pneumatico. Le gomme Bridgestone Turanza T005 si sposano alla perfezione su auto classiche come l'Alfa Romeo Giulietta e l'Audi A3. La Giulietta, grazie al suo assetto sportivo noto come DNA, trae vantaggio dall'equilibrio del Turanza T005, migliorando la sua agilità e risposta dinamica. D'altra parte, l'Audi A3, con il suo assetto unico ASF che mira a equilibrare comfort e prestazioni, trova un partner ideale nel Turanza T005. Questo pneumatico potenzia la trazione e il comfort di guida, mantenendo la precisione per cui l'Audi A3 è così amata. Entrambi i pneumatici hanno dimostrato di avere ottime prestazioni su molti test. Tuttavia, nessuna gomma è perfetta. Secondo l'Adac, il Mechelan Prime C4 presenta lievi debolezze sulle superfici bagnate. Mentre Autobuild l'ha segnalato una durata limitata del battistrada del Bridgestone Turanza T005. E l'Adac ha notato un livello di rumorosità leggermente superiore rispetto alla media. Quindi, quale è il migliore? Beh, la risposta a questa domanda dipende in gran parte dalle vostre preferenze e priorità personali. Se date priorità alla frenata sull'asciutto, all'efficienza dei consumi e al comfort di guida, allora il Mechelan Prime C4 potrebbe essere l'opzione migliore per voi. D'altro canto, se privilegiate la maneggevolezza sul bagnato e una bassa resistenza al rotolamento, allora il Bridgestone Turanza T005 potrebbe essere la scelta ideale. Ricordate, queste sono solo le nostre conclusioni basate sui dati dei test che abbiamo esaminato. La vostra esperienza potrebbe essere diversa. Se non siete d'accordo con le nostre conclusioni, o se avete esperienze personali con questi pneumatici che vorreste condividere, vi invitiamo a farlo nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui futuri contenuti. Ciao a tutti!